Guai a parlare di promozione in tasca, di traguardo ormai ad un passo o di Lega Pro già realtà. Tutti quanti discorsi che è meglio non innescare al quartier generale del Pro Piacenza al termine dell'ultima fatica settimanale. Ci abbiamo provato a strappare a Mr. Franzini una mezza ammissione circa la situazione invidiabile in cui si ritrova la squadra dominatrice del torneo, ma la risposta è stata quella preventivabile da parte del tecnico di Vernasca che interpreta al meglio il ruolo di pompiere a smorzare ogni tipo di facile entusiasmo. Mister, è fatta? No, non è fatta perché abbiamo partite contro squadre che stanno lottando per non retrocedere, contro le squadre che noi nel ritorno abbiamo fatto una fatica incredibile, abbiamo vinto e battuto tutte le squadre di alte classifiche e abbiamo perso qualche punto contro queste squadre, quindi hanno tutti degli obiettivi, l'obiettivo di salvarsi, per cui sarà fatta se vinceremo ancora da qua alla fine, ma noi dobbiamo pensare alla partita di domenica, è sicuramente un avversario che vuole uscire dai play-out, è un avversario di qualità. Verissimo, al Siboni arriva una formazione affamata di punti come il mappello Bonate, ma ciò non toglie che domenica, conti alla mano, potrebbe già essere tempo di stappare lo champagne, ammesso finalmente in fresco domenica scorsa dopo il blitz di Sesto San Giovanni. Una vittoria che ha scacciato paure e segnali sinistri, giunti dopo una serie di risultati preoccupanti e che in tanti avevano letto come un potenziale bis del beffardo finale della stagione passata. Con il mappello sarà sufficiente una vittoria di Cazzamalli e compagni e un concomitante passo falso dell'Inveruno. Non ho mai preso come paragone l'anno scorso, dall'inizio del campionato, anche quando si sentivano magari queste cose, perché sono due campionati diversi, due situazioni diverse, totalmente diverse. L'anno scorso ci sono state una serie di situazioni incredibili che si hanno portato un po' alla fine a calare tanto. Quest'anno secondo me le condizioni non c'erano, poi il timore si è semplice, perché poi è chiaro che gli avversari vincono, noi non riuscivamo più a vincere, ci può stare il calo, ci può stare anche che ci fossero i presupposti perché arrivassero dietro. Sarà ancora fermo ai box Rieti, che oggi si aggirava intorno al campo di allenamento con il referto dell'ultima ecografia al muscolo della coscia infortunata. Un'assenza pesante, visto il concomitante forfè di Jacopo Silva bloccato dal giudice sportivo. Per il propria cenza, ultimi inconvenienti prima di un traguardo che non può proprio sfuggire.